Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Tekenu, Obelisco del Sole, edizione Giochi X ed un gioco ambientato nello splendore e nelle meraviglie del mondo antico egizio che vi vado a descrivere a breve, dopo la sigla. Tekenu, in questa edizione appunto della Giochi X, che io ringrazio di cuore per avermi offerto una copia per la recensione, grazie, è sempre un onore immenso e un piacere collaborare con voi. È un gioco, come riporta la scatola, da 1 a 4 giocatori, le partite vanno dai 60 ai 120 minuti e l'età consigliata dai 15 anni in su. È il classico gioco, un po' mi viene da dire, sfornato dalla Giochi X per un pubblico abbastanza hardcore. Non vuol dire che non sia un gioco per tutti i tipi di player, mettiamolo così, di giocatori. Però, a parte la valutazione in fondo, è difficile mettere tutti i tavoli perché sono di quei giochi dove c'è da fare molta attenzione e le regole sono abbastanza complesse. Occhio, complesse per me non vuol dire complicate, difficili. Una partita basta, anzi, metà partita basta, avanza un paio di turni tre a capire il funzionamento del gioco, però ci sono tante cose effettivamente da tenere a mente. Si va in un'ambientazione dell'antico Egitto, bellissimo, dovete costruire quello che oggi il sito famoso come Karnak e dovete andare a costruire sotto questo obelisco una vera e propria città che andrà a vedere sia le statue che dedicherete all'uomo o le statue che dedicherete agli dei, ai sei dei che poi sono compresi nel gioco, ovviamente sono gli antichi re dell'Egitto, e poi dovrete sempre andare a fare la dualità con la Dea Amat. Vi ricordate che soppesava i peccati dell'uomo tramite il Dianubi per poi vedere se era possibile fare un ingresso o meno nella Duat, nel Paradiso, comunque nell'aldilà, Paradiso è brutto, nell'aldilà degli antichi egizi e dovrete andare a costruire statue e soprattutto è un gioco duale perché da una parte costruirete per voi se vince la partita a punteggi, però anche non soltanto per il popolo quanto per le divinità. Quindi dovrete anche un po' dividervi tra la parte puramente politica e costruttiva logistica e la parte spirituale. Ve l'ho detto, è un gioco abbastanza complesso, riprodotto tra l'altro veramente molto bene come componente e tutto quanto, però c'è un pochino di cose da spiegare. Ve ne parlo a breve, vi do proprio un'idea senza trattare niente, un'idea di come funziona, ma prima di tutto unboxing. La confezione è bella grande anche perché seppa ricca di contenuti ed è veramente ragazzi il disegno da poster, è veramente spettacolare, vedete l'obelisco che è la parte più importante, tutte le meccaniche ruotano intorno al fatto del sole come ci picchia, l'ombra, le zone di luce e le zone dove i dadi non le potete toccare e poi vedete tutti quanti i costruttori col tempio di Karnak di sfondo, è veramente bellissimo. Il manuale che quando l'andate ad aprire un po' di paura la mette perché il setup è abbastanza bello pompato diciamo, c'è un po' di cosine da fare, vedete infatti sono tutte quante raffigurate con i numerini che vi aiutano a seguire, più che altro sono una ventina di pagine di regole normali più un'altra decina, sette, otto, una cosa del genere di regole aggiuntive, quindi insomma un pochino da leggere c'è. Poi all'interno trovate tutti quanti i meeple, le colonne, le costruzioni che potete fare perché potete costruire colonne, statue ed edifici, poi trovate un bellissimo obelisco in plastica che pare quello che su un errore, non vorrei dire una castroneria, lo rubò Napoleone o qualcosa del genere se lo portò via e questo qui è la parte centrale. Poi tutti quanti i dadi come vi ho detto che vanno sotto l'obelisco nella zona di luce o ombra o la zona negata e questi dadi qui a seconda del colore e della zona dove si trovano hanno un effetto. Poi abbiamo una tabella che vi fa vedere l'affinità dei dadi e poi servono anche per fare costruzioni, risorse che potete prendere ma più che altro queste qui sono tabelle esplicative che vi fanno un po' d'assunto. Carte che qui nella scatola sono finite un po' sparpagliate, una busta per conservare il tutto e poi praticamente tutte quante le planche di gioco da montare e un bel po' di token insomma da dividere. Ad esempio su questa plancia qua giù è quella del più importante, quella di ciascun giocatore dove ad esempio quando volete andare a costruire una statua qua sotto c'è il valore che vi costa, si parte sempre da sinistra e si va verso destra e qua giù c'è la parte della duat legata alla deamat che quando prendete un dado di luce lo dovete mettere qui, un dado d'ombra lo dovete mettere di qua quindi dovete andare poi dopo a soppesare i valori e qua sotto qua giù al centro dovete mettere come vedete i dadi del dianubi che vi permettono di fare azioni particolari andete a mettere qua giù e poi ci sono tutti quanti gli altri costi per costruire edifici e quant'altro. Praticamente su questa tabella voi avete tutto quanto il gioco più le risorse vedete ad esempio l'oro, il pane, il granito e tutte le altre risorse che servono poi per costruire statue ad esempio o altre cose nel gioco anche edifici. Le regole del gioco dette proprio velocemente sono semplici quelle di partenza cioè la meccanica del gioco è semplice alla fin fine abbiamo tutta quanta la mappa intanto vi faccio vedere un po' di immagini di sfondo un po' di video montati sopra abbiamo questa grande mappa appunto di Karnak con l'obelisco al centro e in questo obelisco sotto praticamente c'è una ruota che quando farete girare divisa in sei parti come sono alla fin fine gli dei avrete sempre due parti al sole, due parti all'ombra e due parti al buio. In queste zone qui ci saranno sempre dei dadi che verranno messi con regole particolari del gioco e con un valore sopra e questi dadi quando saranno nella zona della luce potranno fare qualcosa, nella zona d'ombra potranno fare qualcos'altro e nella zona invece al buio non potranno essere presi quindi a seconda di dove li andate a prendere il dado di un colore perché poi sono dadi di vari colori potrà fare un'azione se è collegato in una precisa zona quindi magari un dado bianco un dado giallo in una zona d'ombra o in una zona di pura luce non hanno lo stesso effetto però non soltanto dovete vedere anche in quale parte dell'obelisco è perché magari è sotto il dio Osiride per farvi un esempio e o sotto alla dea Bastet e hanno azioni differenti quindi un dado preso ve l'ho detto nel momento di luce dalla dea Bastet dalla dea de gatto Bastet non potrà avere lo stesso effetto di un dado magari giallo preso in penombra per il dio Osiride nel quadrante del dio Osiride quindi come vedete già comunque di partenza ci sono un po di cose da tenere a mente ma fondamentalmente c'è tutto scritto sul libretto e penso che poi sono sei le cose che potete fare non sono i diecimila sono sei le divinità a cui le potete dedicare però le azioni principali poi alla fin fine del gioco che potete fare a notturno sono due o prendere un dado oppure prendere risorse perché ci sono anche le risorse tipo c'è il granito ad esempio per andare a costruire obelischi statue e cose del genere ci sono il pane e altre risorse perché dovete dare da mangiare al vostro popolo popolo che dovete tenere poi sotto controllo perché non soltanto vedete costruire Karnak il tempio la fortezza mettiamola così dedicata agli dèi al faraone agli dèi ma dovete voi siete una specie di Imhotep per farvi capire colui che costruisce la piramide però dovete anche andare a costruire tutto quello che c'è intorno fuori dalle mura quindi la baraccopoli i negozi e la gente se non le date da mangiare la gente diventa scontenta e diventando scontenta scontenta voi andrete a perdere punti vittoria e si basa tutto su quello poi un'altra meccanica che ho trovato molto carina è quello del fatto della dea matt di soppesare i vostri peccati tra virgolette la classica bilancia del dianubi che si vedeva su tutti i libri scolastici quindi se prendete un dado i dadi quelli che vi ho detto al buio non si possono toccare un dado sotto la luce lo dovete mettere dalla parte pura della bilancia se prendete un dado in ombra lo dovete mettere dalla parte tra molte virgolette impura o malvagia quindi quando alla fine del turno la dea matt andrà a soppesare i vostri peccati se la parte sarà in positivo quindi con dadi puri prese alla luce avrete un punteggio mentre invece dall'altra parte ne andete a perdere quindi c'è sempre questo fatto di tenere la bilancia sempre in fattore positivo e dopo un tot che prende i dadi di un certo non tanto di colore alla luce per forza di cose devi andare anche un po a equilibrare con quelli d'ombra e viceversa che ci deve essere sempre un certo livello non non devi rischiare di sforare perché o fai scontenti gli dei o fai scontento il popolo ed è tutta una gara al punteggio fondamentalmente le cose da dire sarebbero tante 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 in più ovviamente di quello che vi ho spiegato ma è giusto per darvi un'idea è un gioco molto 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 non tanto strategico è un gioco proprio logistico perché sì c'è la possibilità che chi prima arriva meglio alloggia però qui c'è proprio da andare più che a pensare a quello ma ha rubato qualcosa cioè da andare a pensare voi a fare le migliori mosse in assoluto con quello che avete a disposizione quindi un gioco che va un po calcolato in conclusione questo tekenu obelisco del sole della giochi x che ancora veramente ringrazio di cuore per il mio effetto questa copia è un gioco non è che mi voglio dire c'è un gioco fondamentalmente per tutti non mi sento di dire non per tutti però per un pubblico forse un pochino più hardcore che cerca una sfida un pochino più ampliata ed estesa in un gioco anche il galba tirà due dadi e fa tutto non è gioco che fa per lui ed è un gioco complesso più che complicato ha bisogno di una partitina ve l'ho detto o di qualche turno insomma vedete un pochino voi per per essere compreso però è un gioco per tutti gli amanti dell'antico egitto come anche me che secondo me saprà divertire tutto quanto anche perché vi sentite davvero un costruttore dell'epoca vi sentite un imhotep cioè alla fine se vincete la partita vi sembra di aver fatto l'impresa di aver costruito l'impossibile e questo gioco ci riesce molto bene con dei materiali che non sono l'eccellenza l'obelisco potevano anche non mettercelo perché poi è un po' piglia troppo posto non serve a nulla mettiamolo così però è bello vedere sto obelisco a mezzo al tavolo con tutte le statue costruite sotto voi mi immaginate un po' sto tempio di karnak fatto da voi oppure anche il tempio di abu simbel per citare qualcosato dell'antico egitto quindi è bello è rappresentato molto bene non ci potevano mettere strutture in plastica perché sarebbe costato molto di più però fondamentalmente quello che c'è dentro basta e avanza quindi secondo me è un gioco consigliatissimo però forse per un pubblico un pochino più dedicato a questo tipo di giochi se sperate di prendere un gioco intavolarlo velocemente farci una partita nel giro di una serata forse non è prettamente il gioco che fa per voi ringrazio la shock x se lo volete ordinare primo link in descrizione in suive impressioni da get your fan direttamente al miglior prezzo sul mercato se non lo trovate contattateli privatamente e le dite arrivo dal canale di koridan si potrebbe avere tekeno che non è in lista faranno il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato il prezzo più concorrente possibile e soprattutto non lo volete pagare a prezzo intero lo potete pagare interrate senza nessun tipo di finanziamento e spese postali incluse cioè non vi fanno nemmeno pagare spese postali in 48 ore va arriva meglio di così insomma fatemi sapere un po cosa ne pensate e alla prossima ciao ragazzi